Ciao! Vi piace? Sì, potrebbe venire fuori una bella canzone, però... questo non succederà oggi? Decisamente no. Perché no? Adesso ve lo dico. Perché a Tomas piace la ragazza nuova, Violetta. Io non so che ci trovi in lei, non lo so. Ok, è carina, ok. E sì, canta bene, ok. In più, sì, è adorabile, ok. E io? Io sono la sua grande amica di sempre. Il che è come avere una spina conficcata nel piede che ti fa male tutte le volte che lo appoggi. Vabbè. Come una spina nel mio cuore ho il tuo amore. Ok, ok, è orribile. È sdolcinata. Forse dovrei andare da Tomas e parlargli. E dirgli non so che mi piace. Ho un'idea. Da qualche parte avevo un libro. È una specie di oracolo da consultare. È il libro delle frasi. Io gli faccio le domande e lui mi risponde. Volete vedere? Dunque, vado e dico a Tomas che vorrei essere la sua fidanzata? Immagino che la disgrazia più grande che un uomo possa avere è... Che? Che? Che cosa? Che una donna gli dica che lo ama? No! Ma che succede con questo libro? No! Dovrebbe aiutarmi. Ok, ok. Adesso vado in cucina e mi faccio una spremuta d'arancia. Vediamo se mi passa l'amarezza. Ci vediamo qui la prossima volta sul videoblog di Francesca. Un bacio. Ciao!